ciao alissa ciao come stai bene pure lui pure lui il long squish cat sta bene come si trova qui su ai piani alti si trova bene si rilassa tanto e si e poi ultimamente sono anche arrivati i due fratellini a fargli compagnia qui maialetto e cos'è quello che non mi ricordo chissà che animale è comunque è un animale tipo un axolot non dice quello però gli axolot non hanno così le orecchie e nemmeno le ali hai ragione dobbiamo scoprire che animale a me sembra una specie di pipistrello potrebbe essere potrebbe ma no è il suo fratello giusto fratello anzi fratellino è il suo e questo è sorella ok e lui come l'ha preso l'arrivo di questi fratellino e sorellina bene però anche un po geloso un po geloso beh in effetti prima il letto era tutto per lui adesso lo deve dividere con questi due belli poi sono belli pure paciocchi e occupano spazio io sono un po gelosa perché questo era il mio letto è arrivato lui e il loro ecco vabbè e allora visto che qua ci sono un di gelosia in ballo cosa abbiamo qua un libro che si chiama frullato e parla proprio dell'arrivo di un fratellino di una sorellina insomma perché che succede quando arriva un fratellino ci si sente un po come se si viene frullati perché la propria vita viene completamente stravolta è come se viene messa in un frullatore ecco e quindi ci si trova un po destabilizzati è quello che è successo al nostro long squish cat adesso che sono arrivati loro perché è contento perché ha la compagnia però d'altra parte gli hanno rubato tutto lo spazio e io non li squiscio allora facciamo una cosa leggiamogli questo libro che magari dentro troviamo la soluzione a questa gelosia o comunque magari ci spiega un po come affrontare questo cambiamento che dici sì ok vediamo allora intanto la copertina intanto mi attratto subito mi piaceva molto lo stile e è scritto da silvia speranza che è una mia omonima che è un insegnante della scuola primaria quindi i bambini li conosce bene allora iniziamo oh già mi piace questa pagina ma credo sia un criceto una cavia vabbè andiamo alla prima pagina oh che bella tutto colorato mi piace un sacco questo libro ok cioè nel senso mi piace lo stile ora vediamo se è anche bello la mia amica emma ha un bellissimo gattino grigio e bianco fa le fusa quando lo accarezzi salta sul divano come un leopardo come pia poi che cosa succede anche sulle tende gioca a nascondersi dietro le tende questo però non piace alla mamma di emma e miagola come fosse un leone però i leoni non miagolano ma lui miagola come se fosse un leone quindi miagolerà facendo tipo così fa una miagolata da leone vedi il mio amico matteo ha un cagnolino simpaticissimo se gli lanci la pallina la riporta e scodinzola felice quando vuole le coccole si sdraia pancia in su e si fa accarezzare come lui ah anche lui piace questo bene bene abbiamo già qualcosa in comune ma questo è il long squish dog guarda il suo parente però cane andiamo avanti con la storia finora abbiamo visto che c'è emma che è un gatto invece matteo un cagnolino e che fa la guardia al cancello di casa e abbaglia furiosamente agli sconosciuti mi ricorda qualcuno ma aspetta volevo aggiungere una cosa questo e questo ci stanno sotto pure pure sì però andiamo avanti con questo libro perché questo è un video su questo libro e già vedo una cosa che mi piace molto mia zia rita ha un criceto cicciottello dal pelo rossiccio che corre sulla sua ruota per tenersi in forma è vero vediamo un po il carattere simile ai padroni e io io desideravo un canarino ma mamma e papà mi hanno portato a casa un cucciolo di di insomma un cucciolo che è un miscuglio di tanti animali no vabbè ma questo è daniel quando sei arrivata tu lui voleva cioè i suoi amici hanno degli animali tutti con le loro caratteristiche lui gli è arrivata una sorellina vediamo cosa combina questa sorellina ha le unghie di un gatto i denti a guzzi di un cane le orecchie sempre allerta di un lupo gli occhi grandi e tondi di un lemure la voce perforante di un merlo indiano e la velocità di un puma sono io ah sei tu proprio sì infatti tu quando eri piccola guarda è una cosa incredibile guarda allora sono un po diminuite però allora sì allora questo diminuito perché me ne taglio le orecchie no quelle sempre anche se sono in un'altra stanza e dico una cosa cosa hai detto che perché mamma mia cioè stavi facendo del tutt'altro sta sentire quello che dico io questo oppure appena voi vi abbracciate io ho cosa immediatamente si appena io il papà ci facciamo un momento abbraccio anche se lei è in un'altra stanza arriva improvvisamente ad unirsi all'abbraccio all'abbraccio non so come comunque andiamo avanti sì hai tutto alissa pure la voce perforante vediamo come la prende lui l'ho chiamato frullato anche se mamma e papà insistono a dire che lei sì perché è una lei un nome ce l'ha lui ha chiamato sua sorella frullato i suoi giochi preferiti sono strappare tutto ciò che ha tra le zampe correre con il suo passo di papera di qua e la lanciando giocattoli aprire tutti i cassetti delle pentole e poi sbatterle una contro l'altra morsicare me e i miei pennarelli lo sai e intanto i genitori se ne stanno qui tranquilli cioè lui deve subire tutte queste cose e loro ah sì i bambini giocano poi guarda hanno appeso ah questa sarebbe lei secondo te sembrava sì ma sono loro perché vedi io ah sono proprio loro cioè gliel'hanno fatta in quel momento la foto quando mangia è insopportabile sbrodo le sputacchie in continuazione questo mi farebbe un po' schifo e se poi le viene un attacco di ridarola vengo sommerso dagli schizzi di cibo ma alissa tu ce l'avevi la ridarola da piccola pure parecchia avete presente i video degli errori ci sono dei momenti che ride e non si fermava più non si fermava più e succede ancora succede una volta a scuola stavo così tranquilla ho detto ciao fra mi sono messa a ridere per tutta la ricreazione ma per una cosa che avevi detto tu sì cioè tu hai detto ciao fra e io da un certo punto mi sono messa a ridere per tutto il tempo per sbagliare sono pure caduta ma continuavo a ridere comunque io voglio sapere cosa ne pensi gattone finora di questo libro ti sta aiutando a superare un po' questa questa antipatia per i tuoi fratelli? mi sa mica tanto gli stiamo facendo vedere ancora di più le cose brutte basta ora li vuole cacciare ancora di più che facciamo cambiamo libro no 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 per favore per favore lui ci arriverebbe salta lui tocca cioè lui se lo mette in piscina tocca sempre con i piedi va bene andiamo avanti no sono piedi questi non sono piedi guarda senti cosa sono non sono né zampe né piedi dicevo anzi che a proposito di ridarola ti ricordi quella live dove non dovevi ridere perché avevi mal di gola continuavo continuavo allora andiamo avanti che stai a fare? devo dire che stai pensando a fra e cose varie attenta io sai che cosa penso? che se adesso tu ti alzi di botto qui dai una capocciata che te la ricordi per il resto della tua vita o non te la ricorderai mai più perché ti viene l'amnesia no come quelli che battono la testa e si dimenticano anche il proprio nome vabbè ragazzi questo è il libro è un libro corto ma sta durando molto dicevamo 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 ecco qualche volta lancia urla acutissime tanto da spaccare timpani e cervello se una cosa non deve essere toccata lei la tocca puoi scommetterci e quando viene sgridata da mamma e papà gli incanta con i suoi occhioni da lemure fammi vedere gli occhioni da lemure sono incantata veramente guarda sono terrorizzata e lui uffa vediamo che succede di notte neanche di notte si può stare tranquilli spesso si sveglia e come una civetta spalanca gli occhi inizia a emettere suoni incomprensibili come ga 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 oh bruu ma 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 che bello perché che bello no ero ironica diciamo che ah ok non ti fa venire tanta voglia di fare un bambino o di avere un fratellino insomma insomma uno strazio fino a ieri attenzione cosa è successo ieri qualcosa è cambiato ieri frullato si è ammalata aveva la febbre alta mentre sonnecchiava sdraiata sul divano mi sono avvicinata così ti attacchi la febbre e non vai a scuola ma che sono queste tecniche qua che evidentemente collaudate probabilmente quando Daniel sta male lei diventa molto amichevole con suo fratello le ho appoggiato e la mano sulla fronte era caldissima lei con gli occhi chiusi ha sussurrato mimi mimi che sarei io cioè Michele oh carino non gli ha mai detto il nome non ce l'ha detto a noi sua sorella lo saprà lei non è che vive solo in questo libro o in un certo senso sì comunque poi mi ha stretto la mano e l'ha portata alla bocca ecco ho pensato ora mi morde e invece mi ha dato un bacino lieve sulla punta delle dita così li attacca la febbre ma basta pensare che è un momento è un momento tenero e in quel momento come nelle favole più belle l'incantesimo è svanito sul divano non c'era più frullato ma Giorgia la mia sorellina le ho dato anche io un bacino sulla fronte calda e lei ha sorriso tenendomi la mano come si può resistere a quegli occhioni da lemure così abbiamo scoperto anche come si chiama e poi è finito così ok praticamente il giorno che si è ammalata è diventata dolce e quindi è riuscita a calmarsi un po' e hanno avuto un momento di tenerezza e allora abbiamo scoperto come fare Alissa dobbiamo farli ammalare vai attaccagli l'influenza dai così poi diventano buoni ah non ce l'hai non ce l'hai non ce l'hai la febbre niente allora sono arrivati in ritardo dobbiamo aspettare che giri la prossima influenza fargliela prendere così poi diventeranno più dolci e coccolosi e potranno fare amicizie con lui però è vero che quando i bambini anche i più terribili si ammalano hanno la febbre diventano così carini dolci teneri che ti viene voglia di coccolarli tutti non so no allora ci sono bambini che quando si ammalano pure della mia età si ammalano e stanno tutti male e non vogliono nemmeno mangiare io ci sono io che seppure c'è il brodo mi fiondo beh insomma così così sì allora mi ci fiondo piano però ci vado no sai che cosa ti sei mangiato l'ultima volta che stavi male il riso bianco ma era bianco ma poi l'abbiamo fatto diventare blu ti ricordi perché ci abbiamo aggiunto l'alga spirulina vero vero e mi hai detto che era stra buonissimo col parmigiano e l'olio te lo devi rifare o devo aspettare che ti riammali rifarlo ma da guarita da tutte le volte ma oggi si mangia qualcos'altro cosa mangi stasera che già l'abbiamo deciso i sai che bon i sai che bon cioè questa bambina che potrebbe avere per cena qualunque cosa desidera qualcosa di raffinato non so una bella tagliata di manzo oggi oggi mi dici ti pre allora ti faccio qualunque cosa perché così sei molto felice potevo scegliere le alette di pollo il pollo proprio buono quello buono buono che si fa a natale qualunque cosa io scelgo i sai che bon i sai che bon confezionati cioè praticamente quegli spaghetti cinesi secchi che tu ci aggiungi l'acqua aspetti tre minuti e sono pronti vi rendete conto questa bambina che gusti ha un po' strani ma che strani li avresti decisi pure è vero sono molto buoni però io invece mi farò una piadina ma vuoi anche tu la piadina voglio tutto vuoi piadina la piadina con dentro i sai che bon e poi la frulliamo e facciamo un bel frullato e te lo bevi a colazione non frullare il libro frullato è molto carino questo libro ragazzi perché ti fa capire che anche il fratellino o sorellina più terribile più dispettoso in realtà ti vuole bene perché poi nei momenti del bisogno quando stanno male ti cercano danno i bacini insomma si capisce che ti vogliono bene e che non sono dei frullati ma sono delle persone sono dei bambini anche un po' un po' matti a volte ma quello è il bello no? sì va bene e allora ragazzi noi speriamo che questa lettura vi sia piaciuta di avervi fatto compagnia anche oggi con un nostro video speriamo anche che il nostro gatto abbia imparato qualcosa da questo libro e per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao 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 no 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 ferma Pa-pa-da-pa-pa